Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Che hanno fatto anche Graveyard Ship Simulator 2 e che hanno in servo per noi molti altri giochi nel corso di quest'anno. Il gioco è in italiano, lo proviamo, lo iniziamo e abbiamo diversi manager che possiamo scegliere ma al momento io credo non sia ancora completissimo il gioco. Comunque abbiamo Marta, un ex dipendente del settore bancario, capacità di ottimizzare i costi che permette di gestire in modo efficiente il club. 5.000 dollari extra per iniziare e le attrezzature hanno un 10% di sconto. Selezioniamo lei e andiamo avanti, lo proviamo insieme così. Lo Spalmos, club piccolo, club medio, sono tutti con clienti, una clientela diversificata, no? Tranne il cameo che ha i clienti che bevono, bisogna vincere questi livelli per poter andare ad avere i nuovi club. Iniziamo con lo Spalmos perché questo ha un affitto molto alto e abbiamo un obiettivo che è quello di terminare la notte con 100.000 con il livello disco 1 e organizza un evento. Quindi iniziamo così. Speriamo che ci illustrino un pochino come funziona. In the house In the house This is worldwide Allora, modalità creativa dove possiamo andare avanti all'infinito Ma noi giochiamo la modalità standard. Così lo proviamo e vediamo un attimino come funziona. Non è il classico gioco dove si gioca in prima persona, come siamo abituati con tanti giochi, ma qua abbiamo davanti a noi un vero e proprio gestionale. Abbiamo della musica che tra l'altro io andrei subito a verificare se non incappiamo. Possiamo caricare la nostra musica? Usare la nostra? Sì, qua prendo il copyright sicuro, comunque, ma la fermo così evitiamo ogni tipo di problema. Allora, requisiti del club. Questo è un mobile per il riposo. Costruisci un bagno, una pista da ballo, assumi un buttafuori, assumi un barman. Quindi costruisci. Allora, dobbiamo costruire le pareti. Abbiamo il mobile. Allora, praticamente, ci piazziamo... Mamma mia, quanti! Un divanetto che costa poco. Posso ruotare la visuale così. Ci mettiamo... Ok, dobbiamo costruire un bagno. Quindi mi domando... Il bar... Ma dov'è il bagno? Disco, toilette. Ok, costruiamo la toilette. Allora... Praticamente ruoto l'oggetto. Quindi facciamo che il bagno è qui. Vorrei piazzarci anche una parete. In modo da... Magari fare... Qualcosa di un pochino più... Sì, uomini e donne ci sta. Non è bellissimo il modo in cui... Ok. Possiamo metterci una porta. Abbiamo la decorazione. Quindi possiamo metterci addirittura... La carta da parati sopra. Cosa che facciamo immediatamente. Tra l'altro qua... Mi sta dicendo che non si fa così. Perché dà fastidio. Vabbè, allora... Niente... Ah, sto colorando intanto. Va bene. No, vorrei capire... Come faccio? Ok, eliminiamo questo. Non mi fa eliminare più le pareti, ma... Allora... Canch vende oggetto. Spazio e nasconde le pareti. Infatti le nasconde. Un po' la The Sims. Annulla posizionamento. No, vorrei eliminare le pareti io. E no, non me le fa più fare. Vabbè, poco male. Facciamo il contrario. Quindi andiamo a posizionare il bagno qui. Sempre che riusciamo. Ok, così direi che va più che bene. Perfetto, abbiamo fatto il bagno. Ora, vorrei andare a riposizionare nuovamente i colori. Mi chiedo se sia possibile... Con un tasto... Riempire tutta la parete, ma direi di no. Che poi... La cosa brutta è che non mi fa pitturare... Ok, qua, all'interno. Ok. Se io scegliessi un tab o qualcosa, no? Vabbè, dai. Facciamola tutta così. Il mio club. Perfetto. Ok. E qua abbiamo il bagno. Abbiamo fatto il bagno. Pista da ballo. Quindi dobbiamo fare la pista da ballo, che immagino che sia questa. Un po' stile anni 80. Vabbè, facciamola così. Pista da ballo. Così, dai. Ok. Un barman. Quindi un bar. Il bar era... Qui. Bellino. Li possiamo dare proprio il nostro stile. E direi che... Lo facciamo così. Davanti al bagno. E basta. Non mi pare ci sia neanche così tanta roba da... Da poter piazzare. Mettiamo dei tavolini. Ce ne sono tanti carini, ma io gli darei questo stile qui. Tavolino. 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 E vediamo se ci sono le sedie. Così. 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 Niente divanetti. Ne mettiamo le sedie. Ok. E a questi ce li mettiamo doppi. Va bene. Dai. Facciamolo così. Assumi un buttafori. Assumi un barman. E qua abbiamo la possibilità di prendere un barman. Ce ne sono tanti. Con una paga tutta diversa. Questo ce lo vedo bene. Perché costa meno. E assumiamo anche un buttafori. Un buttafori. Mi serve bello aggressivo. Questo mi piace. Livello 1. Assunto tutti. Eccolo lì. Fuori. Si è già messo lì. Non mi dice. Avvia discoteca. Giorno 1. Vediamo se c'è altro che possiamo fare. Perché dei dipendenti poi sbloccheremo la sicurezza. Detti pulizie tecnici. Qua invece abbiamo. I miglioramenti. Quindi possiamo migliorare. Spendendo 4000. Ne abbiamo 12000. Non è il caso. Miglioriamo il livello. Per il riposo. Quindi tutto quello che è. Mobili adesso. Sali di livello. Quindi probabilmente potremmo acquistare. Gli alcolici di base. Va bene. E il disco base. Quindi si possono aggiungere eventi. Sblocca gli eventi. Per portare festa a livello superiore. Ma iniziamo. Avviamo la discoteca. Vediamo come va. Tabella eventi. Non ne abbiamo. Abbiamo praticamente il numero attuale di clienti. I soddisfatti. I neutrali. Gli insoddisfatti. Abbiamo il numero. Che. Di gente che sta ballando. Non c'è il DJ. Quindi stiamo mandando avanti così. Vabbè. Avviamo la musica. Tanto ci parlo sopra. Dai. Numero attuale di bar occupati. Perché c'è il bar su post. Supporta. 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 Due slot. Posti di riposo occupati. Sì. Perché sono due soltanto. E tre per il WC. 36 posti per ballare. Quindi al momento. Abbiamo dentro 10 persone. Non ho visto porte. Quindi. Vabbè. Intanto la notte è giovane. Bellina questa cosa che va ad eventi. Quindi praticamente. Noi aumentiamo il tempo. Facciamo passare la serata. E vediamo come va. Vediamo com'è l'incasso. Numero previsto di clienti. 34. Ne abbiamo 20. Reputazione. Ok. La decorazione. Va bene. Quella che è lettore musicale. Statistiche clienti. Ok. Quelle che stiamo vedendo qui. Tabella eventi. Che non abbiamo al momento. U c'è la fila. Li sta controllando tutti. Entrano. Ah. Quanti che ballano. Bellino. Visto. Da. Vicino. E uno viene a ballare con le cuffie. Vabbè. Perde un po' che non ci sia il DJ. Ma penso sia sbloccabile. Comunque l'una. Non so che ora si chiude. Ma penso che per le quattro. Questo qui deve andare al WC perché è riuscito lo stimolo. Cliccando sulla persona è insoddisfatto. Non si sa perché. Perché è stanco. No. È andato in bagno. Io adesso mi aspetto che esca. Contento. No. Balla. Si stanca ancora di più. È intossicato. Usa la tua LED meno spesso. È intossicato da non so cosa. Comunque si vede anche della pulizia. Quindi io adesso spero che. Adesso che chiudiamo. Qualcuno venga a pulire. Aspetta un secondo. Perché questi. Hanno il simbolo della pulizia sulla testa. Ebrezza. Cliente drogato. Risolvi manualmente. Risolvo manualmente. No. In via dipendente. Eh no. Eh sono. Stanno male. Bellina sta cosa. E posso mandare anche gente a pulire. Ma ovviamente non c'è nessuno. Allora abbiamo perso la reputazione. È andata malissimo. Abbiamo guadagnato. 1.700 di entrate. Abbiamo avuto 34 persone come previsto. E va bene. Adesso io voglio vedere una cosa. Siamo andati in positivo. Quindi io voglio potenziare la disco base. Perché vorrei aggiungergli anche un DJ o qualcosa. Se fosse possibile. Vediamo un attimo se si può. No. Postazione sicurezza. Postazione detto pulizie. Ma qua in realtà viene già pulito in automatico. Comunque. Vediamo un attimo se possiamo migliorare la postazione. Questa. Perfetto. Quindi la costruiamo. Abbiamo speso praticamente tutti i soldi che abbiamo. Postazione sicurezza. Costa. Max 2. Max 1. Ok. 1 ne basta. La postazione sicurezza. Non saprei dove metterla io perché. Andrebbe fatta una stanza a parte. Dove posizionarla. Però se io la mettessi qui. E ci mettessi delle pareti. Poi vediamo. E poi abbiamo anche la postazione del. addetto delle pulizie. Che però questa può tranquillamente starci qui. Ok. Quindi assumiamo l'agente. Addetto alle pulizie. Ne assumo uno. Questo. E assumiamo anche la sicurezza. L'agente smitta. Quindi praticamente. Il bagno è diventato inaccessibile adesso. Sposta. Eh. Fatemelo mettere qua. Allora. Ok. E questo lo sposto. Lo metto qui. Punto. No. Non me la fa mettere. Ah perché sei già seduto il tizio. Ok. Niente. Come non detto. Ok. Fatto questo. Abbiamo fatto tutto. Non vedo ancora i DJ. Ma probabilmente. Altoparlanti. Ah sì. Eccolo qua. Postazione DJ. 2007. Ce li abbiamo. Bellino. E devo assumere anche un DJ. Immagino. No. Il DJ arriva per i fatti suoi. Credo. No. Perché non posso assumere un DJ? Adesso. Fatemi vedere. Postazione DJ. Altoparlanti. Perché spacchiamo tutto. Che diffonde proprio il suono ovunque. Quindi lo mettiamo qui. Lo mettiamo qui. E li assarderemo tutti. Vedete che copriamo proprio tutto. Diamo un po' di tregua al bagno. Perché lo mettiamo qui in modo che anche il bagno si sente tutto in bagno. Poster. Costano poco. Li attacchiamo. No. Posso ruotarli? No. Ok. No. Mettiamo così. Vabbè ma non ci cambia niente. Ma apriamo. Vediamo se il DJ arriva per i fatti suoi. Ma non credo perché. Speriamo che la gente si diverta. Il DJ non c'è. Aspetta. Traccia disponibile. Ok. Scegliamo noi. La playlist. È una sorta di mini gioco. Che ci fa vedere come si agganciano le tracce. Quindi questa qua si aggancia così. Che va bene. Questa si aggancia così. Poi due agganci qui. Un aggancio centrale. Direi che possiamo. Ecco. Infatti ho capito. 700. Ah ok. Mini gioco del DJ. Bene. Chiudi. Bene. Speriamo che. Arrivino. Prevedono ancora 34 clienti. E ho anche la sicurezza. Quindi se qualcuno sta male. Se qualcuno. Posso mandare qualcuno a pulire. O anche a scacciarlo via. Fino a tutto bene. Non mi sembra così. Ok. Puliamo. Visualizza incidente. Ok. In via dipendente. E quindi il dipendente esce e va a pulire. Ok. Pulisci. Che in bagno. Per il momento non c'è nessuno che sta male. Però la musica è coperta. Eccolo qua. In via dipendente. Con la sicurezza. Credo. Non riesce a uscire. Non riesce a uscire. Non riesce a uscire. Niente. Ah no. Beh. Questo qua è stato. Segnalato al personale. Segnalato al personale. Ma non esce. Non ce la fa uscire. Mannaggia. L'ho proprio messa male questa. Questa mostra qua. Vabbè. Comunque sono le 7. Credo che alle 7 comunque si vada anche poi anche a casa. Vediamo. Vediamo se abbiamo perso ancora la reputazione. Ma diciamo non ha un granché di gestionale il gioco. Cioè. 1900. Che abbiamo fatto dei soldi non tantissimi. Però dovrei spostare questo. Con la Z. E non me lo farò spostare. Perché? Vendero. Un attimo. Devo venderla. E riacquistarla. Però ci perdo. Postazione sicurezza. Lo metto qua così. Che ti devo dire. Ok. Sicurezza. Ne assumiamo uno. Ok. E quello dovrebbe poter essere in grado di agire. Nessuna fila impostata. Adesso voglio vedere una cosa. Se posso. Attrezzatura va standard. Nuovi bar. Sblocca la capacità di organizzare eventi. Nuovi eventi. Calendario eventi. Ok. Bellino questo. Adesso siamo al. Qui. Prende un po' più di profondità. Allora. Stasera. Evento DJ Eric. Bellino. Aumenta il prezzo del biglietto. Richiede 500 di reputazione. 250. Noi in reputazione abbiamo. Meno 7. Quindi non ce lo scordiamo. Noi il DJ. Eh sì. Carina sta cosa. Ok. Diciamo gli eventi non li vedremo praticamente mai. Però è assolutamente interessante. Livelli disco. Vediamo un po'. Si sale di livello. 500 di reputazione. Si sale di livello 2. Molto basilare. Devo dire. Non è niente di ultra mega galattico come come gioco. Insomma. Però può essere simpatico. Non so il prezzo. Non mi sembra neanche che sia così difficile. Perché abbiamo concluso due serate. Perdendo reputazione. Ma guadagnando soldi. Quindi non c'è il rischio neanche di banca rotta. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se lo avete giocato. Magari in questi giorni lo avete preso. Vi interessa. Insomma. Fatemi sapere il vostro parere. La vostra esperienza. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.